Ho fatto ancora quel sogno. Sono in piedi in una sala immensa e di fronte a me c'è il sindaco di Roma. Sta leggendo alcuni articoli del Codice Civile, snoccio la frase come obbligo di reciproca assistenza e regime di comunione dei beni, con voce monocorde. Io l'ho fisso sbalordita, ma lui continua imperterrito a far guizzare i suoi piccoli occhi da una riga all'altra, da un paragrafo all'altro. Accanto a me c'è un ragazzo che non conosco. È alto e magro, con una bella barba scura. Sembra molto emozionato. Ad un tratto si volta e mi sorride. Rimango in dubbio se rispondere o meno. Abbasso lo sguardo e mi accorgo di indossare un abito bianco. Io detesto il bianco. Mi guardo le braccia. Sono fasciate da maniche di pizzo tempestate di strass. Sto per gridare per l'orrore, quando il sindaco di Roma dice che, per i poteri a lui conferiti, ci dichiara marito e moglie. E a questo punto mi sveglio in un bagno di sudore. Evidentemente il tuo desiderio di accasarti è talmente forte che saresti pronta a sposarti anche con uno che non conosci. Ha decretato Silvia quando le ho raccontato il sogno. Grazie della stima. E comunque non sei un ingegnere chimico tu. Che ne capisci di interpretazione dei sogni? Per me è una premonizione invece. Pensa a quello che ti pare. Sbuffa lei, rimirando le sue incredibili decoltè viola. Le ho messe in tuo onore. Dice, piazzandomi un piede praticamente sotto il naso. Però stiamo facendo tardi alla presentazione del libro di Nicola. E con questi tacchi non pretenderai che mi metta a correre. Nicola è il mio ex ragazzo. Ho deciso di lasciarlo la sera in cui mi sono resa conto che nessuna delle ultime 50 chiamate ricevute dal mio cellulare proveniva dal suo numero. Ero sempre io a cercarlo. Allora gli ho lasciato un messaggio in segreteria dicendogli che non potevamo più andare avanti. Lui non mi ha richiamata neanche quella volta, così ho dedotto che fosse d'accordo. Vista la fine estremamente civile della nostra storia, peraltro durata in tutto tre mesi scarsi, ho accettato di partecipare alla presentazione del suo romanzo d'esordio, Le devastazioni della passione. Quando entriamo nel locale, Nicola sta già declamando a beneficio di uno sparuto gruppetto di persone. Più che sufficienti per lui, che è affetto da una grave forma di disturbo narcisistico della personalità. In questa notte limpida non riesco a dormire. Penso a te, persa nella nebbia del ricordo, al tuo corpo, alle tue mani. Le tue mani sono spatole che mi spalmano addosso la crema del tuo desiderio. Le tue mani sono farfalle, leggere sulla mia pelle. Sono... sono aghi di pino. È agghiacciante! Mormora Silvia, chinandosi verso di me. Lo so, rispondo. Ma lui ti diceva queste cose? Insiste lei. No, parlava più che altro di cibo e di calcio. E nell'intimità? Grugniva soltanto. Lei annuisce gravemente e si ritrae. Come sono andato? Ci chiede Nicola alla fine, sbavando per la city di elogi. Benissimo! Rispondiamo in coro la mia amica ed io. Ma... cosa... cosa vi ha colpito di più del romanzo? I dialoghi o le descrizioni? Veniamo salvate dall'arrivo di una ragazzitta che gli si getta addosso mugulando complimenti. Deve essere appena arrivata. O sorda. Via subito! Prima che ci costringa a comprarne una copia! Mi sibila Silvia. Indietreggiamo fino alla porta e una volta in strada scantoniamo alla velocità della luce. Sulla via di casa mi sento molto depressa. Silvia, tu fai mai bilanci della tua vita? Chiedo alla mia amica, che mi cammina accanto in punta di piedi per non infilare i tacchi nelle buche tra un san pietrino e l'altro. No. Risponde decisa. Tra trent'anni, forse. Beata te. Io in questo periodo mi arrovello tantissimo. Temo di non aver concluso nulla di buono finora. Beh, anch'io ho i miei crucci. Per dire, la mia estetista si è trasferita in un altro quartiere e non ho ancora trovato una sostituta valida. E poi ieri ho visto un paio di stivali favolosi, ma non c'era il mio numero. Eh, son problemi. Già. Già. Quella notte sogno di nuovo il sindaco di Roma. L'abito da sposa e mio marito, il ragazzo Bruno. Noto un particolare in più. Una cicatrice gli taglia quasi a metà il sopracciglio sinistro. È almeno la settima volta che faccio questo sogno. Vorrà pur dire qualcosa. Allora, ad occhi sbarrati nel buio della mia camera, penso a mio cugino Stefano e alla nostra ultima conversazione. Tu viaggi troppo con la fantasia, Viola. Mi ha detto. La vita non è come nei libri e nei film. Non arriverà mai nessun principe azzurro a salvarti da te stessa. Parli bene tu Stefano, rispondo al soffitto. Tu che hai sposato la tua compagna di banco del liceo, fanculo. Mi alzo ed esco a cercarlo. Alto, moro e con una cicatrice sul sopracciglio sinistro. Quante ce ne saranno a Roma? Dov'è Silvia? Chiedo a sua sorella Amanda, entrando col fiatone nella loro cucina. Che è sta agitazione? Hai vinto al super enalotto. Non sono agitata, rispondo, accasciandomi su una sedia. Ho solo dovuto farmi cinque piani di scale a piedi. L'ascensore è rotto. Non è rotto, c'è dentro Silvia che si fa i baffetti. In ascensore? Sì, dice che lì la luce è migliore. Sono due giorni che ti cerco, dove straminchieri finita? Fa Silvia comparendo in quel momento. Se te lo dico mi prometti di non arrabbiarti? Dipende, risponde. Amanda sguscia via sogghignando. Ok, correrò il rischio, sospiro. Sono stata in giro per la metro. Su e giù da capolinea a capolinea, sperando di incontrarlo. Merda, questa storia sta diventando una vera ossessione. Dice Silvia sgranando gli occhi. Insomma, non sai neanche se questo ragazzo esiste davvero. Non sai come si chiama. Alzo una mano per interromperla. So le sue iniziali, dichiaro con solennità. Ah sì? Nell'ultimo sogno aveva il monogramma ricamato sulla camicia o sulle mutande? Non essere volgare. Me le ha dette Alessia. Alessia? La cameriera del bar Mercury. Proprio lei legge i fondi del caffè. Oh mio Dio! Smettila! Le lettere sono R, D, P. Renato D. Pedis, il capo della banda della Magliana. Fa lei sicura. Ma non è morto da un pezzo? Scuoto la testa. Sei proprio ignorante. Il vero nome di D. Pedis era Enrico. Renatino era il soprannome. Si vede che non guardi mai chi l'ha visto. Mi ci manca solo quello. Comunque, questo è solo un ulteriore segno della tua pazzia. La lettura dei fondi del caffè. Sei davvero la canna del gas. Sono stanca delle tue critiche. Sbotto. Solo perché credo ancora nell'amore, nel destino e in tutte queste cose che a te fanno solo vomitare. Viola! Solo perché non passo da una storiella all'altra come fai tu. Solo perché non mi diverto a cambiare uomo come altre cambiano la biancheria. Adesso basta! Dice Silvia, con un tono che non ammette repliche. Le sue piccole narici fremono d'indignazione. Scusami, piagnucolo. Non volevo. Ora ti racconterò una storia. Dichiera lei, ignorandomi. C'era una volta una ragazza. Chiamiamola Silvia. A 22 anni si fidanzò con un ragazzo bello, alto e simpatico. Fecero grandi progetti per il futuro. Il matrimonio, una casa, dei figli. Non appena lei avesse finito l'università. Un giorno, mentre erano al mare, Silvia svenne. Non era la prima volta che le accadeva, ma questo episodio fu diverso dagli altri. Il suo corpo era percorso da spasmi violenti, come scariche elettriche. La quiete di quella bella giornata fu stravolta dalla sirena dell'ambulanza, dalla corsa in ospedale e infine dalla diagnosi. Epilessia. Silvia fu sottoposta a una lunga serie di esami e alla fine il medico le disse che, se avesse seguito la terapia, avrebbe potuto avere una vita normale. Il suo fidanzato le rimase accanto, ma lei si accorse che era cambiato. Era a disagio con lei adesso, specie se gli capitava di vederla prendere le sue medicine. E alla fine la lasciò, perché non riusciva ad accettare il fatto che fosse malata, le disse. E lei, quando capì che non lo avrebbe mai più riavuto indietro, prese le sue medicine, tutte insieme. La salvò sua sorella Amanda, che quella mattina era uscita prima da scuola. Silvia mi sorride. I suoi occhi, che durante il racconto si sono trasformati in due pozzi di dolore e fondo, tornano agli specchi luccicanti di sempre. È una storia abbastanza romantica per te, Viola? Mi chiede. Dio mio, Silvia, io non sapevo, non immaginavo. Non potevi saperlo. Mi hai conosciuto quando la mia trasformazione in collezionista si era già completata da tempo. A proposito, ti ricordi di Valerio? Il disegnatore? Proprio lui. Ora lavora in polizia, fa gli identikit. Domani lo chiamo e lo faccio venire qui. Non lo lasciamo andare via finché non ci ha fatto un disegno dettagliato della faccia di Riccardo De Paoli. Di chi? Ma sì, di Roberto Di Porto, di Raimondo del Passo, o di come cavolo credi si chiami questo fantomatico tizio. Grazie. Poi ci scriviamo sotto wanted, dead or alive. Ne facciamo almeno 5.000 copie e ci tappezziamo la città. Che ne pensi? Geniale. Il giorno dopo, Silvia, Valerio ed io siamo seduti intorno al tavolo della cucina, concentratissimi sul foglio su cui lui sta tracciando, secondo le mie indicazioni, il ritratto di RDP, l'uomo del destino. Dopo ore di lavoro, il silenzio è rotto dal mio grido vittorioso. È lui! Gli occhi leggermente a mandorla, la barba curata e il sopracciglio sfregiato. È proprio come nel sogno. Valerio, sei un grande artista! Esclamo, presa dall'entusiasmo. Per festeggiare, ordiniamo pizze e birre! Fa Silvia stirandosi. E lui lo mettiamo qua per il momento. Aggiunge, fissando al frigo, l'immagine del mio futuro marito con un magnete a forma di rana. Poco dopo, nella cornice della porta, appare un ragazzo. Ha tra le mani i cartoni delle pizze e una busta di bevande. Posa lentamente i suoi pacchi sul tavolo e si passa una mano sulla barba. Lo guardiamo. Poi ci voltiamo tutti verso il ritratto attaccato al frigo. Poi lo guardiamo di nuovo, muovendo le teste in sincronia come gli spettatori di una partita di tennis. Infine, spalanchiamo le bocche. Lui si è sfilato il cappello di lana che portava calato fino agli occhi e la cicatrice che taglia il suo sopracciglio sinistro pare quasi brillare nella luce fioca della cucina un attimo prima di essere di nuovo coperta dai capelli scuri. Silvia soffoca un gridolino. Nel silenzio che scende subito dopo, mi chiedo febbrilmente quali saranno le sue prime parole. Mi chiederà di scappare subito con lui. Mi abbraccerà dichiarando di avermi cercato ovunque. O invece si getterà i miei piedi piangendo di gioia. Anche Silvia e Valerio, muti e immobili, pendono dalle sue labbra. L'oggetto di tanta attenzione si fruga a lungo nelle tasche finché non ne strae un pezzo di carta che studia per un attimo e finalmente alza lo sguardo. Sono 18,70 euro. Dice RDP, il ragazzo delle pizze.